ecco lo stile domani ragazzi riechi quanti cariche pimpanti arzili nel canale un altro video insieme un buon pomeriggio a tutti voi in questo secondo contenuto di giornata e prima di cominciare a parlare della conferenza stampa di tiago motta che si è tenuta alle 13 di quest'oggi e alzate un bel pollicione mi raccomando alto alto e poderoso se il video fosse stato di vostro gradimento iscrivetevi al canale se lo avete ancora fatto e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre costantemente aggiornati sulla postatura di ogni contenuto quotidiano come avete visto tiago motta è sembrato molto serio molto professionale molto concentrato sull'obiettivo di portare a casa i tre punti juventus como domani alle 20 e 45 con uno allian stadion tutto esaurito quindi sicuramente ci sarà un'ottima spinta da parte della tifoseria che è chiamata comunque a dare un contributo importante alla causa tenendo conto che abbiamo la possibilità di staccare già subito il milan e l'inter fermate nei pareggi quindi la juventus può in qualche modo già dare un segnale al campionato ovviamente siamo ancora agli inizi però in qualche modo far capire che la preparazione atletica è cambiata che c'è una mentalità vincente che c'è voglia di dimostrare di non essere soltanto un outsider ma una candidata alla lotta per lo scudetto ribadiamo alla lotta perché non possiamo dire che lo vinceremo con certezza perché comunque abbiamo detto l'inter è molto attrezzata a livello di rosa ha fatto anche tre ottimi acquisti anche se in zaghi si è lamentato del reparto offensivo dove è un po corto visto che c'è turam e martinez sempre pronti e con buone prestazioni ma a ornauto vice corea non danno garanzie come potevano darle prima quindi diciamo che mot ha detto chiaramente che la rosa a disposizione potrebbe sembrare corta perché ci sono praticamente 15 giocatori forse 16 però lui ha detto viene convocato domani chi merita di essere in campo quindi io avrò comunque a disposizione gli 11 titolari che ho scelto più 5 cambi più di quelli non posso fare quindi lui in pratica non si lamenta né del mercato è contento soddisfatto è contento del reintegro di mccanny ha detto chiaramente qual è la sua posizione sul caso chiesa e poi lo vedremo appunto nel secondo argomento di questo video e ovviamente ha fatto capire che nella sua testa non esiste la rosa corta se i giocatori che vanno in campo sono mentalizzati a fare bene e le riserve scelte quindi comprimari sono pronti a subentrare dal loro contributo quindi è anche un'iniezione di fiducia nella squadra perché come abbiamo detto dopo tutto quello che è stato detto magari i giocatori potevano anche scoraggiarsi andare in campo un po molli proprio perché ci sono praticamente otto giocatori fuori dal contesto squadra cosa che non succedeva presente dal triennio di allegri quindi attenzione ovviamente al como perché è vero che saranno orfani di baran però l'abbiamo detto è una squadra che vuole sicuramente mettersi in mostra avete visto anche il parma che ottima partita fatto con la fiorentina che poi riuscita a pareggiare ma è stata in svantaggio quasi tutta la partita quindi soprattutto nel calcio moderno il fattore campo conta fino a un certo punto perché vi ricordate quante squadre sono venute o a vincere da casa nostra oppure a pareggiare a tirare via un punticino quindi come ho detto sarà fondamentale mettere tutto quello che è stato appreso in questi mesi appunto con con tiago motta sia a livello di abnegazione in campo sia a livello tattico a livello di moduli a livello di idee di gioco a livello di concetti di gioco cioè tentare di dominare il possesso palla costruire dal basso partendo dal portiere cercare sempre i dribbling l'uno contro uno quando si può per creare superiorità numerica e riaggredire alto ogni volta che sia possibile e ovviamente tiago motta è uno di quelli che non guarda in faccia nessuno se per caso la squadra non riesce ad incidere no nei primi undici titolari farà i doverosi cambi e metterà in campo chi è fresco e chi è pronto a soddisfare le sue esigenze tattiche questa è una cosa che non era mai non si era mai vista quindi lui punta sempre ad alzare l'asticella in qualsiasi partita e con qualsiasi avversario ecco perché anche nella conferenza stampa di presentazione aveva detto chiaramente che non guarderà in faccia nessun avversario sia che sia tratti di campionato coppa italia supercoppa champions league e mondiale per club perché a suo modo di vedere gli alibi non ci devono essere non si deve parlare di infortuni di squalifiche di giocatori più forti giocatori più deboli si deve dare tutto quello che si ha in campo e questa è la prima cosa che lui ha garantito e garantirà in questa stagione ricca di impegni ecco l'altro argomento fondamentale è quello che riguarda chiesa perché come sapete l'abbiamo detto in tutte le salse l'accordo ormai certo tra chiesa inter c'è con marotta che sta provando in tutti i modi a strapparlo parametro zero se gli sarà possibile ma se questo non fosse possibile vorrebbe prendere il giocatore a 10 milioni al ribasso totale gli ultimi giorni di mercato a mio modo di vedere si può provare questa formula per evitare di dare un ingaggio assurdo a chiesa e soprattutto cercando di ammortizzare un po il costo del giocatore che era stato pagato 60 milioni da noi da quattro anni quasi cinque quindi chiaramente forse farà una piccola minusvalenza però intanto monetizzi con lui e non lo vai a dare via parametro zero tra gennaio e giugno quindi questa è una cosa fondamentale ne ha parlato anche repubblica giornale comunque di spessore e quindi insomma vedremo quello che accadrà perché in zaghi dopo genoa inter ha sottolineato le gravi lacune a livello offensivo della sua squadra che è vero che ha fatto due gol ma poteva farne di più poteva vincerla ma purtroppo come ha detto lui siamo corti là davanti dopo turame martinez non può contare più di tanto su arnautovic e correa e ovviamente taremi deve ancora diciamo inserirsi no nello scacchiere tattico suo quindi chiesa potrebbe fare diciamo il bello e il cattivo tempo potrebbe comunque essere un giocatore utile alla causa quindi vedremo quali saranno gli sviluppi tanto ormai è chiara la vicenda di federico numero 7 bianconero cioè quella di essere un separato in casa fuori rosa destinato ad allontanarsi dalla juventus tiago motta sapete è uno che non le manda dire e dice le parole fra i denti senza aver paura delle ripercussioni o comunque di ondate social eccetera 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 quindi da questo punto di vista sia lui che giuntele tutta la proprietà è in sinergia sono in sinergia per cominciare una nuova epoca tutti insieme dove i giocatori comunque devono attenersi a una certa disciplina non possono farla più fuori dal basino appena dimostrano di non dare tutto per la causa bianconera vengono allontanati o comunque gli vengono proposti dei rinnovi a ribasso proprio per evitare cali di concentrazione cali di rendimento che la juventus non sono concessi infatti la real madrid al city al bayern monaco ai grandi club di elite appena ci sono dei giocatori che già mostrano dei segnali di calo le società cominciano a metterli ai margini tra l'altro qualcuno di voi in chat sottolineava come goresca è ai margini del bayern monaco quindi ovviamente è stato un sogno di mercato di questi ultimi mesi e infatti alcuni suggerivano proprio ma invece di andare con coop miners insistere per questi 60 milioni da spendere e con nico gonzalez buttatevi su questa occasione di mercato in ogni caso vedremo come si svilupperanno le vicende di coop miners e nico gonzalez cup miners discorso è l'atalanta adesso aspetta la chiamata della juventus si può trovare un'intesa fino ai 60 milioni con i bonus inclusi anche sky ha confermato che la trattativa può essere conclusa e adesso tutta discrezione della juventus che deve evitare l'obbligo di riscatto questo è proprio da depennare e anche il relazionamento del pagamento cessione a titolo definitivo o niente o non si fa quindi la juve in questo momento deve darsi una mossa stessa cosa per nico gonzalez non possiamo aspettare commisso ai suoi comodi bisogna cominciare a mettere sul piatto i danari perché altrimenti le trattative si arenano il mercato è fatto di queste cose qua tra l'altro anche con con sei sao c'è questo rischio perché ora il giocatore può forzare la cessione andare via però il porto o c'è da titolo definitivo una cifra torna di 30 milioni o obbligo di riscatto da lì non si scappa vedremo se giuntoli da qui al fine del mercato riuscirà a dare qualcuno in più a tiago motta ditemi la vostra forze fino al fine scarica di commenti non si scappa vedremo se